Grazie Sì, non è il 3 minuti Sì, non è una volta Non è un po' Sì, già andando Quanti a 10 minuti Quanti a 10 minuti Sì, un po' Sì, una volta? È una volta Quanti a 10 minuti Quanti a 10 minuti 1.6 minuti Grazie a tutti. Grazie a tutti.